Un'insidia invece sembra arrivare da una bevanda il cui nome è spesso associato all'analcolico. Il bitter, certo un altro tipo di bitter. Abbiamo fatto questo bitter con 30 botaniche in fusione 3 mesi con il nostro vino Levaglie e si chiama Bitter Levaglie e abbiamo avuto in un mese e mezzo un successo incredibile. Lo promuoviamo come aperitivo e come digestivo e la mia ricetta è ghiaccio, arancio e Bitter Levaglio. Molto più di un bitter in grado di diventare la base per cocktail freschi ottimi per l'aperitivo. Potrebbe essere collegato con diversi cocktail. A me quello che piace più di tutti è l'americano. Bitter, Campari e Bitter Levaglie, arancio e ghiaccio.